L'inquinamento dell'aria è un problema sempre più complesso, soprattutto perché è prodotto da diverse fonti e con un diverso peso. Nella media regionale il traffico incide per il 24%, nell'area urbana di Como invece per il 50%. L'aria strutturalmente sta migliorando. Se consideriamo un periodo di una decina d'anni, questo miglioramento si vede in maniera chiara e forte. Il 2017 però, da questo punto di vista, è stato un anno sfortunato. Abbiamo avuto un mese di gennaio, un mese di ottobre con molta poca pioggia, molto siccitosi. Sono i dati resi noti durante il convegno Maldaria. L'inquinamento atmosferico avvelena le nostre vite, organizzato dal Circolo Lega Ambiente di Como Angelo Vassallo, in collaborazione con associazioni ambientaliste e altre realtà cittadine come Famiglia Comasca, CGL, Associazione Medici con l'Africa e con il patrocinio della Camera di Commercio e del Comune di Como. Il ruolo dell'ente pubblico è quello di rispondere alle esigenze del territorio e di conseguenza cercare in modo interattivo di sviluppare con durevolezza delle iniziative che vadano durante tutto l'anno a tener conto di quello che è l'ambiente nella sua complessità, incluso il tema dell'aria che è centrale. Questo convegno, nelle nostre aspirazioni, vorrebbe essere un punto di partenza per mettere insieme le forze della società civile, dell'amministrazione e della buona politica per ottenere dei risultati nel contrastare i livelli di inquinamento atmosferico e quindi nella promozione di un'attenzione per l'ambiente che significa anche qualità della vita per i cittadini. Grazie a tutti.